buongiorno sono urbano della sani moreno Volkswagen Audi di Fucecchio oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco usato si tratta di questa bella open zaffira ed è un 1.600 metano benzina turbo quindi è una macchina da 150 cavalli quindi una macchina comunque di prestazioni diciamo elevate con l'economicità del metano perché lo sapete col metano naturalmente si riesce a risparmiare notevolmente sui consumi allora intanto vi ho fatto vedere anche la carrozzeria esterna come vedete di questo bel bordò scuro scuro veramente bella e brillante a livello di accessori abbiamo i sensori di parcheggio posteriori cerchi in lega da 17 pollici questi sono ancora alcuni particolari di carrozzeria sensori di parcheggio anteriori e fari fendimiglia all'interno troviamo la sua tappezzeria molto molto bella misto pelle tessuto naturalmente il precedente proprietario non era un fumatore quindi all'interno non troviamo né cattivo odore né buchi di sigaretta né strappi è stata tenuta veramente veramente bene poi noi per dargli un veramente punto a favore laviamo tutte le tappezzerie e le facciamo igienizzare a vapore quindi gli interni devono essere veramente belli per quanto ci riguarda poi abbiamo il cambio a 6 marce il climatizzatore automatico l'autoradio con il cd il suo display volante multifunzione con comandi bluetooth cruise control la vettura ha fatto 144 mila chilometri naturalmente abbiamo anche le fatture dell'ultimo tagliando fatto che l'ha fatto a 129 mila ha fatto un bel controllo quindi la macchina è veramente anche controllata sotto il profilo meccanico altra particolarità di questa macchina intanto vedete i sedili posteriori e che è un sette posti eccolo qua qui ci sono ancora i due ancora più posteriori quindi vettura sette posti metano benzina turbo quindi spaziosa economica nei consumi bella un bel colore ben accessoriata già disponibile per la vendita quindi la potete già venire a vedere a provare a chiedere informazioni per quanto riguarda pagamenti abbiamo pagamenti rateali a tassi acevolati quindi possiamo trovare la soluzione migliore per il vostro acquisto quindi qualsiasi informazione desideriate avere o venite di persona o potete anche telefonare al numero che troverete sull'inserzione vi risponderò anche io personalmente vi riuscirò a darvi tutte le informazioni possibili su questa vettura quindi a questo punto vi saluto vi ringrazio per l'attenzione e se desiderate ripeto avere informazioni telefonate o venite presso il nostro punto vi ringrazio per l'attenzione a presto